La filosofia open source rappresenta un nuovo modo di concepire il web cui il sistema operativo Linux ha fatto da apripista per incoraggiare la pubblicazione aperta e libera di programmi e sistemi. Essa ha reso possibile nel corso degli anni il sorgere spontaneo di una rete di molteplici interazioni e l'evolversi di meccanismi trasversali di partecipazione e condivisione dei contenuti. Benvenuti nell'era dello Users Generated Content. Prendi parte anche tu alle Avicamp su Internet e partecipazione che si terrà a Modena il 23 ottobre 2010 in occasione del Linux Day. Grazie per la visione!